E' stato celebrato in piazza San Francesco ad Arezzo nel primo sabato dall'entrata in vigore della cosiddetta ordinanza anti-alcol a messa in scena del funerale della Movida con tanto di corteo funebre e bicchieri vuoti. E' stata una cosa goliardica, nulla di più. Certamente c'è un dispiacere, ovvio vedere la piazza che a l'uno in quarto si vuota è stato un po' un trauma per noi. A far accendere gli animi dei commercianti dunque le nuove restrizioni dopo l'applicazione dell'ordinanza voluta dalla giunta comunale di Arezzo che vieta il consumo di bevande alcoliche lungo le strade e le piazze del centro storico e lo stoppa la somministrazione da l'uno in poi. Se realmente risolveste, per carità, ma penalizza e basta. Secondo me non è la soluzione. Poi i disordini che sono capitati in un'altra parte della città è giusto che vengano in qualche modo circoscritti là, secondo me, ed eliminati, ma con altri metodi, non con questo. Secondo me dovrebbero aumentare la sorveglianza, i controlli e a un certo punto stoppare chi realmente trasgredisce. E parte così la controffensiva dei commercianti che sotto la guida della Confcommercio di Arezzo stanno già valutando il ricorso al TAR. Il ricorso al TAR è uno dei tanti elementi che abbiamo messo in campo, la raccolta firme è un altro elemento, vogliamo coinvolgere più operatori possibili, ma soprattutto vogliamo che questa ordinanza non prolunghi i suoi effetti anche dopo il mese di sperimentazione che è stato previsto dall'amministrazione. Intanto i baristi aretini mercoledì si siederanno attorno allo stesso tavolo per tracciare un cammino comune, con tanto di elaborazione di un documento le cui linee si stanno già delineando e con una raccolta firme. Ci sarà appunto una grande riunione con la categoria dove ci confronteremo con l'APM, il comandante della Polizia Municipale Cecchini, proprio per dettagliare meglio quest'ordinanza che ci pare in qualche modo inadeguata per i fini che va a individuare. Abbiamo delle modifiche, abbiamo pronto un documento in cinque punti che sottoporremo prima al comandante della Polizia Municipale, ma subito dopo al sindaco e all'amministrazione comunale. Riteniamo che queste modifiche siano di buon senso a partire dall'inizio del divieto che dovrà partire dalle due di notte, ci sembra un orario francamente molto più adeguato. Grazie a tutti.